Buongiorno, bentrovati, buon mattino a tutti voi, siamo qui puntualmente dal lunedì al sabato alle 7 per Occhio i Giornali per mostrarvi le notizie principali sui quotidiani, il resto del Carlino e Corriere Adriatico in edizione locale, ma noi guardiamo anche l'Almanacco, quindi guardiamo il calendario, il santo del giorno e anche le previsioni del tempo, un saluto a tutti coloro che ci guardano anche in questo momento in diretta streaming e guardiamo subito che cosa ci dice il calendario, oggi è sabato 23 novembre, San Colombano, il sole è sorto alle 7 e 12, tramonterà alle 16 e 37, come non ricordare in questo giorno padre Colombano di Montegiove, compianto e amatissimo padre spirituale di tante persone di Fano che lo ricordano ancora. Benissimo, guardiamo le previsioni del tempo, per quanto riguarda partiamo da oggi, sabato appunto le previsioni sono queste, cielo inizialmente sereno, poco nuvoloso, graduale aumento delle nubi stratificate fino a diventare nuvolose nel pomeriggio, le precipitazioni sono date in serata, però prevalentemente sulla fascia appenninica, vedete dove c'è una nuvolosità sicuramente più intensa. Per quanto riguarda la giornata di domani, domenica, la cartina si commenta da sola, c'è pioggia e doppia nuvoletta grigioscura su tutta la regione, quindi sulla carta perlomeno il cielo sarà nuvoloso o anche molto nuvoloso a partire dal pomeriggio, le precipitazioni ci saranno diffuse su tutta la regione, anche a carattere di rovescio, però più che altro è in maniera anche molto insistente nel settore centro-meridionale, le temperature aumentano in minima, in diminuzione nei massimi. Guardiamo che cosa ci dice la protezione civile delle Marche per lunedì, lunedì fa capolino il sole, perlomeno nella nostra provincia, nel nostro settore, non ci dovrebbe essere la pioggia, mentre su tutto il resto della regione estrema variabilità nel corso della mattinata saranno presenti schiarite, però per il resto della regione bisognerà attendere il tardo pomeriggio per avere qualche miglioramento, quindi le precipitazioni saranno diffuse anche a carattere di rovescio, di temporale, quindi nel settore centro-meridionale come domani praticamente, però nel corso della mattinata, nel settore settentrionale ci sarà un miglioramento come appunto mostra anche la cartina, quindi sono temperature in aumento e massime senza variazioni di rilievo. Guardiamo un po' le previsioni anche a lungo termine per i giorni di martedì e mercoledì, è atteso però un miglioramento del cielo prevalentemente sereno, poi da mercoledì, quindi verso il fine settimana, da giovedì in poi ci sarà un nuovo peggioramento, quindi insomma avremo una piccola pausa a metà settimana, però poi il cattivo tempo non ci darà tregua anche per il prossimo fine settimana. Vi porto subito nelle pagine dei quotidiani, partiamo da quella del resto del Carlino, del capoluogo di Regione, si riparla dell'inchiesta, della bufera giudiziaria sull'amministrazione anconetana, la strada dell'inchiesta è già a pezzi, però qui si parla proprio della strada fisicamente, non del filone, perché il passetto dove c'è stata appunto questa strada fatta fare al ribasso, ma il travertino è spaccato e quindi il travertino del percorso che il funzionario arrestato ha affidato al ribasso a un'azienda è già in pezzi e quindi insomma in condizioni già pessime. La libertà però viene negata per gli altri imprenditori che restano ai domiciliari e si parla anche di rifiuti e discariche abusive, viene individuato il sindaco in ordina di ripulire l'area, è una zona martoriata appunto da discarica abusiva e poi Natale d'Aurlo si accende l'albero e la ruota, pista e mercatini appunto da oggi ad Ancona. Nella pagina di Macerata però si parla dell'efferato delitto di Pamela, uccisa dicono i giudici senza pietà da una belva, qui vedete nella foto il nigeriano Inosento Segale condannato all'ergastro per l'omicidio e poi i furbetti delle tasse, IMU il conto è di 2 milioni, l'assessore Ceccarelli dice gli evasori si stanno moltiplicando intimidazioni e lettere minatorie agli uffici. Per quanto riguarda il Corriere Adriatico si parla l'apertura nella sezione di Pesaro per i Deors che sarebbero gli arredi esterni di bar, ristoranti e esercizi commerciali. Solo Deors da regolamento, stando al regolamento e come sono strutturati dicono i commercianti di Pesaro ci costeranno almeno 20 mila euro e quindi bisogna fare squadra appunto per essere compatti per affrontare questa disposizione. Commercianti del centro tra prescrizioni e spese quindi fanno sistema. Ma la fotonotizia è per i capolavori di Raffaello che accolgono i viaggiatori in aeroporto, inaugurata la mostra impossibile dedicata al maestro Urbinate al Sanzio, all'aeroporto Raffaello Sanzio, esposte 45 opere riprodotte però con la tecnologia digitale però per dare subito un impatto a chi arriva da noi per capire in quale terra si trova. L'apertura invece del resto del Carlino è per le luci del Natale che si sono accese e però i negozianti paghino i molti non danno il contributo di 80 euro specialmente in via Rossini e in via Branca e scoppia la polemica. Ma la fotonotizia è tutta per lui, Pupi Avati, il grande regista italiano che si presenta all'apertura, alla riapertura dell'Astra che dice straordinario ecco questo è il miracolo del cinema ruota panoramica, è una versione un po' mini però insomma ci piace questi i commenti nell'immediato. Eccolo qua l'articolo riprendendo quello che era il lancio di apertura della pagina di Macerata, Pamela uccisa con una violenza disumana, le motivazioni della sentenza, lo segale voleva un rapporto non protetto, lei ha reagito e poi stordita con l'eroina è stata finita con due coltellate e poi è successo quello che è successo. Questa è la sentenza, ma veniamo ai fatti di casa nostra, il rebus dei nuovi deos, dei nuovi arredi esterni, dobbiamo unire le forze, questo dicono i commercianti che sono preoccupati, esprimono preoccupazione per le prescrizioni, ha poche e poche anche informazioni tecniche, dicono da un'analisi sommaria ci costeranno più di 20 mila euro a testa per piazzare Lazzarini, strutture tra Fontana e Giostra, mentre in via San Francesco solo ombrelloni e in piazza Paravento vietati, queste sono le disposizioni. Ma la ruota ha preso a girare, tutta illuminata, ieri soddisfazione per i primi pesaresi che sono saliti a bordo, e Ricci pensa già a quella più grande, ad averne una più grande dovrebbe essere intorno ai 26 metri, occhi e croce più o meno dovrebbe essere come quella che è comparsa al Carnevale di Fano un paio di stagioni fa e quindi ecco, giusto per darvi una dimensione. Gira la ruota paronamica, 5 minuti in orbita per osservare la città di Pesaro dall'alto. Buchi nella tesi della Procura, si riparla dell'omicidio Grilli che è venuto a San Lorenzo in campo, il processo è partito e ci sono dei buchi nella tesi della Procura, dicono le difese che contestano le accuse. Si spezza il fronte degli imputati, due si chiamano fuori e l'avvocato dice Nino minacciato dal fratello, Nino Sesto Grilli, il 76enne ucciso in maniera efferata appunto a San Lorenzo in campo, 8 mesi fa, il 17 di marzo se non erro, insomma c'è stato questo omicidio che ha lasciato un po' tutta la comunità della vallata sgomenta per la violenza, soprattutto su come è stato ucciso questo uomo legato, trovato mezzo nudo riverso nel pavimento in un lago di sangue, insomma è stato un omicidio di un'efferatezza che ha lasciato tutti molto sconcertati. La ruota, piccola ma bella, fa già però divertire, ieri in inaugurazione in largo Aldomoro potrebbe restare anche oltre il 6 gennaio, ma Ricci pensa in grande, ne vuole una più grande a Baia Flaminia per l'estate, quindi un futuro di ruote per Pesaro, i commercianti paghino o spegniamo le luminarie, il comune, Confcommercio e Confesercenti in pressing sugli operatori di Via Branca e Via Rossini che in molti, dice il resto del Calino, non contribuiscono e si tratta di soltanto 80 euro, il problema riguarda soprattutto i negozi in franchising ma non sono solo quelli a non pagare e questa polemica molto trasversale che attraverso un po' tutte le città da Senigallia a Pesaro anche a Fano ritorna puntuale come arriva il Natale, è proprio una scioma. Allora Astra, festa per Pupi Avati, è una nuova stagione, riapertura in grande stile, il grande regista italiano sottolinea il cambio di trend, evento straordinario per alcune sale che, molte che chiudono invece qualcuna se ne riapre, quindi insomma un trend in controtendenza e sta crescendo l'alternativa alla multisala, insomma alla multisala con tante proposte, il cinema ancora singolo è veramente una rarità e insomma il grande regista sottolinea questo aspetto. E poi anche a Pesaro hanno a che fare con gli imbrattatori, qui vedete un chiaro esempio in una strada e Bettini, il consigliere di quartiere va all'attacco e dice basta fermiamo gli imbrattatori, insomma un po' come è avvenuto anche la scorsa estate via Garibaldi qui a Fano, insomma dove sono comparse anche brutte scritte, parolacce insieme, però questo è un flagello se possiamo dire un po' di tutte le città metropolitane e non. Da Vallefoglia, violenza di genere per la giornata del 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si moltiplicano su tutto il territorio ma anche a livello nazionale, le iniziative, siamo a Vallefoglia, Sant'Angelo in Lizzola, il 26 di novembre si terrà anche qui un consiglio monotematico sulla violenza di genere nel comune di Vallefoglia e quindi insomma questo aspetto visto anche dalla parte dell'uomo, consiglio monotematico con il professore universitario Bellei e la responsabile di percorso donna. Questo a Vallefoglia invece a Fano si è tenuto ieri il consiglio monotematico, vedete qui una foto con tutti i partecipanti, soprattutto qui c'è un parterre di tutto rispetto che ha tenuto una conferenza agli studenti degli istituti superiori, quattro istituti superiori fanesi e qui vedete il dirigente Stefano Seretti, vicequestore a capo del commissariato di Fano che ha portato numeri che possono far veramente impressione perché pensate ha parlato di 60 casi, quelli che sono stati denunciati seguiti dalla procura soltanto nel territorio fanese, tra polizia, carabinieri, forze dell'ordine, insomma 60 casi in una città di 60 mila abitanti poco più e l'1% è sicuramente un dato significativo. L'allarmante quindi statistica di Fano riferita dal dirigente della polizia agli studenti e a tutti i presenti. San Costanzo contro Monteschiantello non è una disfida di campanile ma si parla di gestore, la riunione pubblica tenuta appunto nella Concordia l'altro giorno ha messo sul tavolo diversi temi tra i quali appunto anche il dove farla e quindi si spaccano anche i fronti di quelli pro, di gestore però insomma lo si vorrebbe o a Monteschiantello o appunto no a Bellocchi, insomma impianti di rifiuti organici, il sindaco Sorcinelli stigmatizza la strategia sul sito del Movimento 5 Stelle, dice è una uscita a scopo elettorale e quindi San Costanzo va contro Monteschiantello, vedremo se si farà e dove si farà. Diaspora del Nolfi, ieri c'è stato un incontro, un incontro al vertice tra tutte le parti, genitori, studenti, docenti, insomma amministratori locali e provinciali. A primavera tre classi dalla Gandiglio, quindi si ritorna a Palazzo Petrucci in quattro anni tutte le 27 disperse. Quindi si parla di riaccumulare i ragazzi e evitare lo spezzatino nuovamente, di cercare di concentrare, appunto anche il resto del Carlino parla di questo, linguistico riunito a Palazzo Petrucci, Casonolfi ieri l'incontro in provincia che ha definito la soluzione che da febbraio dovrebbe prospettarsi e quindi da quattro sedi diventano soltanto due, appunto le sedi del liceo anziché quattro e quindi insomma tutto questo a favore di un migliore utilizzo dei tempi anche morti, insomma anche perché i docenti sono a spostarsi su quattro siti anche se sono sulla stessa direttrice, via Nolfi, però insomma Gandiglio, Olivetti e ex liceo artistico, insomma anche perché fisicamente bisogna uscire da una parte e entrare dall'altra, quindi i cinque minuti non sempre riescono ad essere rispettati. Quindi però si parla anche di una polemica nella giornata dedicata ai bambini, scoppia la polemica sulla Meloni, un volontario dell'Africa chiama, critica il tormentone Io sono Giorgia e due reazioni da parte di Fratelli d'Italia su questa uscita nella giornata insomma dedicata ai bambini, vedete qui un momento di festa proprio davanti all'arco d'Augusto, di gestore e appunto anche il Carlino focalizza su questo, è rissa sulla località, i 5 Stelle lo vogliono a Monteschiantello ma la Lega poi mette il vetto su Bellocchio e falcineto mentre il PD difende la scelta e quindi San Costanzo in rivolta, il sindaco dice ora basta, non siamo una discarica e quindi vedete questa è la stessa pagina scaricata due volte, Val Metauro, siamo a Fossombrone, regolamento per San Filippo e un altro edificio per gli eventi, l'attesi dell'architetto Luzzi sulla tutela della chiesa barocca che non è sconsacrata, è una chiesa quella di San Filippo a Fossombrone che viene utilizzata anche per eventi di altro genere, molto suggestiva, molto bella, bellissima suo interno è veramente spettacolare, se vi capita di andare a Fossombrone andatela a vedere. A San Costanzo, torniamo nella Val Cesano, si parla anche qui di iniziative legate alla violenza di genere, sette giorni contro i sopprusi, si chiama rispettami, non solo violenza di genere ma sotto contro i sopprusi in generale, letture, film e un momento conviviale per riflettere, questa è l'assessore Milena Volpi che ha lanciato l'iniziativa. Dalla Val Cesano revocate le due delibere, siamo a San Lorenzo in campo, una richiesta senza senso, allevamento Fileni, e Dell'Onti dice al Comitato, se non passa l'ultimo atto decadono entrambe, insomma anche qui ci sono pareri discordi su chi vuole questo allevamento della ditta Fileni nel territorio comunale e chi invece è contro. E poi purtroppo dobbiamo registrare un brutto fatto di cronaca, siamo a Fossombrone, nella tarda giornata di ieri un ragazzo di 23 anni prende l'auto del padre nuova, acquistata pochi mesi fa, purtroppo esce di strada e non regge, insomma a questo è preso un po' dalla disperazione, vedete l'auto uscita di strada, purtroppo torna a casa a piedi e si impicca, insomma questo è quello che registra la cronaca a Fossombrone. Siamo nella pagina di Urbino, delitto ai collegi, l'Ersu ora deve pagare un milione di euro alla famiglia Cesaretti, senza shock della Cassazione per risarcire marito e i due figli della Portinaia uccisa nel 1998, che vedete in questa foto di archivio, quindi si è arrivati alla Cassazione ed è stata emessa la sentenza e questo è. Nella pagina invece del resto del Callino, di Urbino, si parla di Fano Grosseto, Biancani rilancia con l'ANAS, incontro a Roma con il sottosegretario e i tecnici dell'ente, entro due mesi il riesame dell'ipotesi dell'apertura della guinza e in questa foto d'archivio vedete l'ex governatore spacca proprio con un manifesto all'interno, alle loro spalle, la priorità della regione Marche, la foto è del 2012, però insomma non mi sembra che le cose siano migliorate molto dal 2012 ad oggi, 40 anni di disinteresse hanno portato alla paralisi dei lavori. La pagina di Senigallia ci parla di cronaca, bambini in auto senza cinture e seggiolini, vigili vicino alle scuole, osservano da vicino come si comportano i genitori e infatti ne multano 22, troppe scuse per evitare il rispetto delle norme, ognuno si inventa la sua ma la polizia locale non fa sconti, intensifica soprattutto la prevenzione perché poi non metti la cintura ma se succede qualcosa dopo, insomma piangere sul latte versato non è proprio il caso, trattandosi di bambini. Il comandante dice l'incidente o la frenata brusca appunto possono capitare a tutti e alle volte può succedere anche l'irreparabile, quindi insomma questo è l'atteggiamento giusto da tenere. Vi riporto nelle pagine iniziali dei quotidiani per chi si fosse come sempre messo davanti al televisore poco fa, si parla ad Ancona della inchiesta della bufera giudiziaria del Comune, la strada da dove è partito il caso appunto fatta rimettere in sesto dal funzionario comunale che è stato arrestato però è già in pezzi, il travertino a pochi mesi dalla riparazione è già ammalorato e quindi libertà negata per gli imprenditori che sono ai domiciliari, discariche abusive, interviene il Comune e le fa ripulire e poi Natale d'Aurlo il grande evento in centro si accende l'albero e anche la ruota, poi la pista e anche i mercatini nella città dorica. Nella pagina di Macerata invece questa è la pagina di apertura, la fotonotizia è per il processo di Pamela e il nigeriano Inno Sentosegale che vedete nella foto condannato all'ergastolo c'è appunto una sentenza, una motivazione dei giudici molto pesante come una belva uccisa Pamela con una violenza disumana. L'apertura invece è per le tasse, per coloro che non pagano l'IMO e un allarme dell'assessore Caldarelli che dice gli evasori si moltiplicano. Vediamo le nostre pagine, Corriere Adriatico, fotonotizia per i capolavori di Raffaello in aeroporto, naturalmente sono delle riproduzioni ma sono 45 opere riprodotte con la tecnologia digitale e insomma per regalare subito un'immagine di cultura a quanti arrivano all'aeroporto marchigiano. Poi solo De Orsa da regolamento, solo arredi come da regolamento a Pesaro che però mettono sul piede d'allarme i commercianti che dicono se sono così come sono ci costeranno oltre 20.000 euro e invece per il resto del Carlino grande apertura nella fotonotizia per il regista italiano Pupi Avati che si presenta alla riapertura del cinema Astra che dice straordinario il miracolo del cinema. Apertura contro tendenza anziché aprire tante multisale un cinema singolo diciamo così è un caso eccezionale, un caso molto raro. Luce di Natale, i negozianti paghino, diatriba annuale su questo aspetto tra chi vuole pagare e le luci e chi non vuole dare il contributo. A Pesaro, via Rossini e via Branca si moltiplicano le diserzioni da questo obolo di 80 euro e quindi scoppia la polemica. Bene, questo è tutto per questa settimana possiamo dire perché si conclude qui la rassegna stampa di questa settimana. Occhio ai giornali torna lunedì puntualmente alle ore 7, questa sera non c'è il telegiornale, vi ricordo come sempre il nostro magazine 7 per occhio che riassume tutte le notizie principali della settimana. Ma il nostro numero di telefono è sempre attivo, questo è il numero della redazione per entrare in contatto con i nostri giornalisti oppure anche per fare una segnalazione. Bene, tempo permettendo, buon fine settimana a tutti, ce n'è per tutti i gusti nella nostra provincia ma anche in tutta la regione, quindi insomma, tempo permettendo, godiamoci questo fine settimana di inizio, di avvio delle festività natalizie. Bene, grazie, buon fine settimana a tutti voi.